L'agenzia turistica Girovaganti SRL promuove il territorio a livello locale, offrendo itinerari culturali, artistici ed enogastronomici il tutto rispetto ad armonia con l'ambiente. Siamo un team vincente che ha come obiettivo la soddisfazione del turista. Il nostro sorriso è il nostro biglietto da visita, il nostro territorio è la nostra casa, così come il turista è il nostro ospite. Il nostro punto di forza è il nostro territorio, da cui ricaviamo ciò che è di meglio da offrire al fine di creare prodotti unici e di valore. Offriamo pacchetti rivolti a studenti che desiderano approfondire e toccare con mano realtà a fine ora studiate solo a scuola. Inoltre puntiamo ad un target imprenditoriale, così da permettere ad aziende nazionali ed internazionali di ampliare il loro network. Girovaganti SRL si distingue per l'accuratezza dei servizi e per l'unicità dei prodotti offerti. La nostra agenzia offre prodotti in risposta ad ogni esigenza del cliente. Se il cliente è felice, noi siamo felici. Se il cliente è insoddisfatto, il nostro compito è di renderlo felice. Girovaganti ha rapporti internazionali con paesi come Croazia, Ungheria, Germania e Inghilterra, con i quali lavora in perfetta sintonia. I nostri itinerari sono proposti anche in lingua inglese e tedesca, avendo come principale metà turistica il lago di Garda, che ogni anno attira migliaia di turisti provenienti soprattutto dal nord Europa. Gli itinerari prevedono, oltre che l'utilizzo di mezzi pubblici e ecologici, la bicicletta, come mezzo di trasporto ideale che permette ai turisti di immergersi e di gustare a fondo colori e sapori della nostra terra, nel rispetto dell'ambiente e della natura. Veneto, il pollice verde del turismo! Veneto, the green region in your hands! Marta, Laura, Maria Chiara, Alice, Lisa, Sara, Giorgia, Alice, Elisa, Samantha, Elsa, Sara, Ludmila, Camilla, Sonila, Deborah, Sara.